All'apparenza è spoglio, entrando nel museo dell'antica consolare Flaminia, situato nell'ex chiesa di San Michele, accanto all'arco di Augusto a Fano, ci si mette in un ambiente privo di reperti. Non vi sono anfore, lapidi, oggetti di tipo archeologico, ma vi sono strumenti dotati di alta tecnologia che consentono di conoscere tutti i siti della Valle del Metauro e oltre, oltre il Furlo, dove si trovano testimonianze romane. Una scoperta entusiasmante che attraverso ricostruzioni e mappe consente al visitatore di immergersi in un'atmosfera di duemila anni fa, attraverso un percorso aritroso. Sì, noi stiamo facendo un percorso di valorizzazione dei beni museali e quindi abbiamo cominciato in questo inverno col museo del Palazzo Malatestiano e adesso col museo della Flaminia e quindi siamo in visita con la Fondazione Marche Cultura per vedere quanto è stato fatto negli anni a livello di digitalizzazione, come poterlo implementare e come poter far squadra. Si può avere la tecnologia migliore del mondo e si possono avere le opere d'arte inestimabili, più apprezzabili e belle del mondo, ma se non lo fai sapere, se non coinvolgi la città e anche i turisti diventa difficile. Quindi stiamo facendo come amministrazione un percorso a tal fine. Il mio obiettivo è anche quello di coinvolgere la città e far riscoprire quelli che sono i nostri beni museali, quindi stiamo ragionando su come coinvolgere al meglio famiglie, persone, farle rientrare in questi posti preziosi, a volte un po' poco frequentati, ma in realtà quando le persone arrivano le apprezzano sempre tantissimo. E nei suoi intendimenti programmatici, Assessore, c'è una priorità che vuole evidenziare? La priorità è appunto quella di rendere più visitabile e di abbattere quanto prima le barriere architettoniche dove sono presenti. Nel museo della Via Flaminia abbiamo un ingresso senza barriere, il museo del Palazzo Malatestiano non lo è, ma stiamo lavorando e a fine mese presenteremo già delle novità. Il museo è di tutti, deve essere di tutti e questa è la nostra priorità. Le elaborazioni tecnologiche, le ricostruzioni virtuali dell'antica Fanum Fortune si devono al Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura dell'Università Politecnica delle Marche, di cui insegnante di disegno e rilievo è il professor Paolo Clini. Il museo della Flaminia è stato un museo all'avanguardia quando lo è stato creato e lo è ancora oggi. Cosa si può fare per valorizzarlo? Ma diventa una sorta di laboratorio tecnologico dove si sperimenta il nuovo valore del patrimonio digitale e da questo punto di vista, ripeto, può diventare un modello non solo marchigiano. Occorrono quindi nuove tecnologie, nuovi metodi per la scoperta del territorio? Beh, qui già devo dire che il livello di tecnologia è molto molto alto, però certo la tecnologia evolve e sicuramente occorre un adeguamento di quel tipo, accompagnato ad un adeguamento di contenuti. E il Politecnico delle Marche sta studiando qualcosa di interessante ed innovativo a questo proposito? Adesso stiamo molto lavorando per questo tema nuovo dei virtual movie, cioè sulla possibilità di portare le persone non solo a vedere in maniera digitale i luoghi e i manufatti, ma entrarci dentro. Quindi questa è un po' la nuova frontiera che poi pensiamo di portare anche qui. Un sostegno in più viene dato dalla Fondazione Marche Cultura, rappresentata da Desi Denardis. La Fondazione Marche Cultura sta gestendo un progetto europeo Rasmus Plus dal titolo Museo Next. Il Politecnico appunto è l'altro partner e la Grecia, la Croazia e la Spagna stiamo cercando di valorizzare la figura proprio del curatore digitale all'interno dei musei. In questo progetto oltre a una formazione per la regione ci sarà anche un progetto digitale che faremo all'interno del Museo di Cagli, fondamentalmente ripercorre non solo la questione di Cagli ma tutta la Via Flaminia appunto partendo da Fano e quindi eccoci qui a ripercorrere un po' i contenuti che serviranno al progetto.